scusano cosa pizzi tu non ti sei rotto le palle che io e te non siamo ancora in arial? allora sinceramente conti si aspetta che ci sta questo pezzo di merda che vuole morire aspetta un attimo che gli spacco la faccia e te lo dico che se non riusciamo a vincere queste partite io spacco tutta la mia postazione non so se hai capito allora mi sembra un po' esagerato no tua mamma tua mamma aspetta no 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 frate frate io spacco la no no fra l'ho spaccata no no fra fra mi sono incazzato troppo allora signor pizzi per favore calmiamoci perché ci stiamo già troppo nervosi io già ho rotto una tastiera ce ne ho quattro ne ho comprate per farti capire e oggi ogni volta che andiamo a morire in arial su fortnite io ti giuro sulla mia vita che spacco una tastiera allora mi sembra un po' esagerato perché hai già rotto una tastiera no non mi interessa non è possibile che tutti i team del mondo sono in arial e gli unici scemi che non è non è fattibile questa cosa già te lo dico sono tutto rosso e oggi ti giuro che sono di un troppo incazzato oh il pomporo questo si questa si che è un'arma credo di aver notato che te sei già sei già incazzato perché prima avevo registrato il mio video e hai tirato due pugni alla schiavania fra che tra un po' veniva giù ah stai tranquillo non ti preoccupare dove è che sta questo pezzo schifoso che si sta nascondendo sicuramente non so dove si sta nascondendo ma so solo che appena lo vediamo gli dobbiamo tirare un colpo di cecchino in faccia porco eccolo lo vedo qua 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 pg scappa no no non ci credo sei proprio scarso sei veramente scarso non c'è un culo sei te scarso che non mi viene a aiutare è una buona di merda io non ti voglio più nel team non ti voglio più nel team sei veramente la persona più scarsa che io abbiamo ma vai a cagare ma ma non so manco parlare ti giuro mi sta pure venendo a prendere su due una terra tua mamma si si goto grande conti però sei scarso uguale sei zitto che c'è un altro sei zitto che c'è un altro dai che adesso ci muori spacchi su tutto dai ma che spacco ma stai tranquillo che non spacco più nulla tanto questa la vinciamo al 100% te lo posso assicurare perché parlo che ogni volta che dico le cose perdiamo sempre c'è un cazzo regalo un pacco regalo bro oh oh buono buono lo pacco regalo buono buono lo pacco regalo buono dov'è che sta io sento i passi ma non lo vede è questo il problema vai conti oh giuro che se perdo da questo prendo il monitor lo stacco gli do un calcio in faccia no mi sembra un po' esagerato però me lo aspetterei eccolo eccolo mori pezzo di merce si bravo mamma mia ragazzi sono fuori oddio no la tua mamma adesso prendo il monitor bro no no fra fermo ho staccato il monitor fermo rega vi giuro lo spacco voglio tanti like per favore ragazzi sto spaccando tutto bro fra fermo no l'ho rotto ragazzi ho rotto il monitor ma sei un coglione no fermo frate madonna che stupido ho rotto il monitor cazzo adesso che cazzo fai senza un monitor ma sei deficiente allora signor pc diciamo che questo video non sta andando tanto bene perché il video sarà iniziato tipo da 5 minuti e ho già spaccato una tastiera e un monitor questa cosa non va bene no vabbè perché ho paura che alla prossima partita che perdiamo potreste picchiare tipo tua mamma no non la picchio mia mamma se mai posso spaccare il computer bro evitiamo magari questa volta magari se ti impegni leggermente dico leggermente di più magari riusciamo a fare qualcosa di ah io mi devo impegnare ah simpatico certo che ti impegnare innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è stare vicini vicini come una coppietta anzi se vieni qua ti stampo pure un bacio sulla fronte che io ti amo non so se lo sapevi arrivo volo 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 no bro facciamo una roba i veri pro player ca madonna ma che cazzo lo vogliono questi c'è sta griffi c'è sta griffi bro questo è forte fra 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 ma che fa balla ma balla ma che cazzo lo fa ho un'idea no sei un coglione uccidiamo sto pezzo schifoso per favore perché voglio io ah c'è gente c'è gente c'è gente come c'è gente scappa bro scappa sennò devo spaccare no sono morto c'ho 10 di vita oddio ragazzi no è finita è finita ma perché le classificate sono così difficili bro fai una roba dobbiamo cercare di scappare non possiamo assolutamente perdere io te lo dico fra da me fra da me fra senti non ti posso aiutare sto in una situazione veramente di merda ah no 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 conti 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 sto arrivando mia principessa non ti preoccupare no 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 comunque c'è un problema prima quando ho picchiato il monitor mi sa che mi sono entrati delle schegge nel ginocchio mi sta facendo malissimo porca puttana conti no 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 sono stupido andiamo uscire un attimo vieni che ho delle bende per te io ce l'ho ammoleto io ce l'ho ammoleto ragazzi questa partita è veramente difficilissima ok stanno qua fuori eh con calma bello questo cazzo no sta qua bro urco sta qua fammi uscire a terra terra 111 a terra 111 buona se sei forte vieni qua che ti voglio dare un altro bacio nella bocca eh un attimo perché se no lo resta conti dobbiamo andare ma andiamo ma andiamo con calma comunque questa partita è super difficile e vi dico semplicemente una cosa lasciate like e iscrivetevi al canale perché questo video sarà assurdo spaccherò di tutto e spenderò tanti di quei soldi che non avete neanche idea fra l'ha curato l'ha curato sto arrivando fratello ho atterrato l'altro ho atterrato l'altro ma quanto sei forte oggi fammi capire eh abbastanza sto scappando fra sto rizzando andiamo 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 madonna mia bravo pc bravo pc dai che diventiamo il team più forte d'italia non penso però ci proviamo non penso proprio non penso proprio ma fra ma l'amuleto non cura più fino al 100 ma cura fino al 50 ma che te frega dell'amuleto dobbiamo fare le kill non so se hai capito mi serve un scudo tua mamma è uno scudo lo vedo lo vedo lo vedo è un gattino l'ucciso ah bombacrappolo mi ha fatto molto male però l'importante è che siamo riusciti a ucciderlo riga concentriamoci concentriamoci allora io vi voglio dire solo una cosa ma che abbiamo un attimo di pausa mi raccomando supportatevi con il codice CONTRI le cose accetti per supportarvi a massimo iscrivetevi al canale passate anche al canale di pizzo lo trovate qua sotto in descrizione detto ciao ragazzi continuiamo questa fantastica partita mi raccomando trovate anche il link in descrizione dello shop dei best comprate le magliette le palle no le magliette non le palle c'è gente c'è gente qua davanti distrutto tu non hai idea l'ho mangiato l'ho mangiato CONTA aspetta che ci sta questo qua ci sta questo che devi rompere la geratola la geratola a terra a terra a terra bravissimo andiamo a uccidere l'amico dov'è che sta l'amichetto mi sta dietro la roccia stai attento che potrebbe essere ovunque qua spariamo gli in culo let's go bravo CONTI dato che mi sento troppo forte adesso prendo la mia tassiera che la stacco gli do un pugno forte no no madonna sei stupido no scusa fra sono troppo incazzato oggi non hai idea oggi spaccherai tipo di ma l'hai spezzata in 12 ragazzi sto spaccato meno male che ho le tastiere di riserva ho comprato tante di quelle tastiere che voi non avete neanche idea per fare questo video però diciamo che il monitor che ho spaccato prima non era nei programmi cioè qualcuno non dovevo spaccarlo però l'ho fatto perché ero troppo incazzato no perché è stupido alla piccia ascoltami un attimo in questo momento siamo rimasti in 35 abbiamo 5 kg di squadra ma dobbiamo escogitare un piano per vincere questa partita perché se andiamo avanti allora se mi metti il muro davanti ti giuro che la prossima volta ti fico un palo su per il ti prego ma conti scusa ma la nostra strategia potrebbe essere quella di denudarci completamente e andare in giro nudi per la mappa ma ti pare che io gioco una partita nudo ma sei scemo ma te pare ma fra ma che cazzo fai ma sei nudo ma solo gli stupidi potrebbero giocare le ranche di fortnite nudi comunque andiamo avanti tu non ti preoccupare ma fra ma che cazzo fai ma che cazzo fai sei nudo non importa noi continueremo questa partita da nudi ok non mi interessa perché se io riesco a vincere vi giuro che spacco tutto oh c'è gente PC PC c'è sta gente un attimo aspetta che questo gli faccio il culo te giuro che se lo no no è forte no 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 PC vai 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 19 19 19 gli ho fatto di hit non voglio spaccare l'altra mia tastiera per favore con calma vieni qua vieni qua fratello mamma mia se lo becco ragazzi vi giuro che gli faccio di un male mamma mia ma questo deve proprio rompermi le palle oggi eh ok sta là sotto lo riempò di bombe l'ho ucciso let's go ragazzi ma quanto cazzo non la sono forte si è il PC te lo dico te lo dico dobbiamo assolutamente vincere questa partita siamo rimasti in 27 se perdiamo la partita credo che posso sclerare in una maniera veramente brutta e non vorrei farlo sinceramente vabbè intanto ormai hai già fatto ah dici che ormai ho già spaccato tutto quindi non può andare peggio te così si ormai hai già fatto danni quindi non mi stupirei se dovessi spaccare qualcos'altro eh guarda di me non ti puoi mai fidare cioè non lo so se mi gira prendo e spacco il computer non ho problemi conti conti ho sentito spari davanti a noi porco diavolo morto diavolo dove cazzo non la stanno questi pezzi schifosi illustrami eh credo che siano là io ho sentito spari allora con calma perché io questi qui davanti li vedo proprio belli e dico belli aggressivi quindi dobbiamo stare molto molto calmi oddio siamo rimasti in 21 minchia stavo per ruttare se riusciamo a vincere questa partita lo sai che saliamo un botto di livello eh lo spero perché dopo aver spaccato una tastiera un monitor aver fatto 6 kill potresti per favore non ricordarmi che ho speso dei soldi e ho spaccato tante cose grazie ecco che sono cazzo i tuoi mi raccomando voi non spaccate niente a casa non imitatemi perché ho fatto solo il deficiente ok spariamoli aspetta che c'è un rampino non so se andargli a pushare potrei farlo ma c'ho paura di morirci sinceramente vai 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 conti spaccare il culo provate se c'è gente tipo qua davanti aspetta ok oh qua uno è morto con calma gli rubo subito il cecco ragazzi perché col cecco non so se lo sapevate ma sono super dico super forte non credo non è vero ragazzi è proprio scarso vabbè qua non c'è nessuno facciamo una cosa prendiamo la macchina e cerchiamo di andare a fare tante kill andiamo cazzo però c'ho voglia di spaccare ancora la tastiera no 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 pc per favore invece di andare con questa macchina potresti stare fermo grazie facciamo le persone serie anche perché siamo rimasti 17 ragazzi mi sto cagando su puoi andare dritto per l'amor del cielo invece di fare il coglione ma io stavo cercando Terry sulla macchina sto sulla macchina vai vai in safe per favore ok raga concentrati siamo messi un po' una merda cioè se posso essere sincero pc fermo qua davanti c'è gente c'è gente che vola andiamo a busciarli questi qua porco io ho fatto male ok stanno tipo senza shield eh vado raga mi sto cagando sotto ho paura di spaccare un'altra tastiera aspetta 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 è quasi bianco te lo dico è nella casa vai busciamolo busciamolo nessuna pietà pc nessuna pietà per questo stronto no no pc io stacco la tastiera un attimo dammi un attimo no 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 conti conti ti spacco in due devo riattaccare l'altra tastiera aspetta ok riattaccata l'altra tastiera pc è la quarta tastiera che cambia non so se hai capito mi devo un attimo curare no no conti ma sei una merda conti conti ci sta pushando esattamente con il rampino eh tu pensa solo a risarmi conti per favore che mi sto facendo di un male che tu non è ragazzi ho spaccato tutto col pugno guarda sono tutto rosso sono stupido oh mi ha fatto malissimo però vi giuro che è una soddisfazione incredibile spaccare le tastiere no pc no ho sbagliato tutto conti aspetta stai zitto che se perdiamo è la fine se perdiamo giuro che no no pc aspetta che gli ho fatto no aspetta fammi pensare un attimo a cosa posso fare oh si stacco il monitor stacco il monitor no 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 conti no conti ti sfrantumi ahhh spaccati pezzo di merda spaccati posso aver esagerato ragazzi l'ho 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 distrutto si è torto tutto sotto non me ne frega niente spacco pure il discreen spacco tutto conti 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 che cosa cazzo non la vuoi che cosa vuoi che cosa vuoi io non ce la faccio più perché questo gioco è veramente una merda ogni volta che gioca a fortnite mi da sempre fastidio non riusciamo mai a vincere una cazzo di partita sai perché perché questa è colpa tua è colpa tua che non riusciamo mai a fare una cazzo di vittoria perché il nostro team fa proprio cagare non sto scherzando io ti giuro senti conti allora il video te lo registri da solo va a fan cu io non voglio spaccare tutto come ho fatto prima quindi cerchiamo di concentrarci per favore ok scendiamo subito ragazzi prendiamo un'arma ok lo scar bianco non è proprio l'arma che volevo ma va bene lo stesso cerchiamo di sbrigarci raga perché se viene qualcuno e pespaio ci ammazza sapete cosa succede no pezzo schifoso no 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 perché non va avanti no 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 con calma con calma ragazzi non voglio morire non voglio morire mamma no 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 questo sta avvenendo qua rompermi le palle me lo sento devo scappare fortissimissimo ragazzi non posso permettermi di morire ma che cazzo lo vuole fare l'albero di natale vieni qua il natale è finito pezzo schifoso ok perfetto un ucciso raga un ucciso ce ne sta un altro lì in parte dobbiamo stare molto molto attenti non possiamo permetterci assolutamente di perdere prendiamo porca trota no mamma mamma perché urlo mamma che manco ci sta mamma a casa è quello il problema vieni qua vieni qua che ti mangio let's go let's go signori la mia potenza è qualcosa di veramente incredibile prendiamo subito il pompa con calma con calma stiamo giocando abbastanza bene dobbiamo semplicemente continuare così perché fino adesso non abbiamo ancora fatto neanche una vittoria tanto ragazzi se perdo sta partita spacco tutta la postazione non so se avete capito c'è gente qua davanti a me mi devo sbrigare ragazzi c'è gente qua davanti a noi no 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 ti prego ti prego mamma ti prego non posso morire no 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 che cazzo la vuole questo cosa vuole dalla mia vita questo qua no 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 tua mamma no ragazzi spacco tu io vi giuro che i player devono andare subito a fare in culo perché non è possibile che ogni volta che gioco io devo perdere in questo modo non è possibile non è assolutamente possibile questo comportamento adesso faccio un'altra partita ma la prossima io giuro che spacco il monitor non sto scherzando questa volta questa volta cerchiamo di non morire come dei cervi non so perché i cervi dovrebbero morire però buttiamoci subito anche perché come sapete io sono un pro player veramente incredibile ma questa volta non moriamo subito sarebbe veramente molto molto bello e molto gratito ci buttiamo subito qua sotto a piazza piacevole anche perché in teoria dovrebbe fa piacere quindi non dovrei morire almeno spero con calma c'è già tutto ci sta pieno di gente pieno di gente ragazzi non è possibile un'arma voglio un'arma no pezzo di merda no 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 non ti prego non ti prego ti prego mamma no spacco il monitor spacco il monitor non devi rompermi le palle adesso adesso stacco il monitor ragazzi lo spacco 3 secondi e lo spacco ma vaffan madonna mia questi player hanno rotto il cazzo hanno rotto le palle voi non so se lo avete io spacco potrei aver esagerato cerchiamo di rimanere calmi perché questi player ogni volta io non ce la farò mai ad arrivare in arrial non ce la farò mai non so come cazzo non la fa ferro è impossibile solo ferro riesce a fare queste cose io non riesco mai a fare niente non è possibile io allora fino ad adesso abbiamo fatto solo cagate abbiamo perso ho sprecato soldi ho buttato tastiere mouse monitor ma adesso per favore dopo che ho spaccato 260 euro dei monitor per favore e dico per favore mi sono una vittoria cerchiamo di stare tranquilli l'importante è trovare un pompa e un'arma perché fino ad adesso non ho trovato ancora niente cioè dimmi ditemi se secondo voi è una cosa normale ok c'è gente qua sopra io ragazzi scappo perché non ho nulla non ho veramente nulla a parte che mi sono fatto malissimo alle mani quando ho spaccato il monitor non avete neanche idea prendiamo il pompa perfetto dov'è che sta questo qua si sta nascondendo tipo dentro questa casa madonna rega se mo so carico dopo che ho spaccato 300 euro di roba sono carichissimo madonna ma perché devo sprecare i miei soldi in questo modo però è molto divertente è molto rilassante devo essere sincero rilassante il caro però va bene c'è uno qua sotto l'ho sentito si sta nascondendo da qualche parte ma se scappiamo non è una brutta roba eh cioè possiamo pure prendere la macchina e andare via non è un problema anche perché ricordatevi che stiamo giocando le classificate quindi se perdiamo perdiamo punti quindi è meglio scappare in questi casi fermi tutti ho appena visto uno che è entrato dentro la botola adesso lo andiamo a inseguire perché noi siamo dei veri uomini io non ho paura di perdere perché non mi entrare nella botola oddio no 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 ragazzi no ragazzi mi ha fatto del male scappa conti ho paura mamma no 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 così no così no per favore perché la gente deve rompermi le parti perché cos'è che vogliono dalla mia vita piano sta qua io devo scappare in qualche modo non so come devo scappare mi sta esattamente qua sopra con calma magari non riesco a prendere io vi giuro che questo video è uno dei miei video più complicati che io abbia mai fatto non sto scherzando è difficilissimo è anche il più costoso soprattutto mi sa che sta qua sopra gli spacco tutto ci provo provo a fare la mattata sta qua ok distrutto l'ho ucciso sono troppo forte c'è un altro c'è un altro mamma mia l'ho mangiato questo l'ho mangiato regà pezzo di merda ah non ho più un mazzo let's go let's go non posso urlare ma la potenza di Conti oddio c'è gente oddio c'è gente c'è gente con calma va bene me ne vado me ne vado tranquillo bro tranquillo me ne vado regà però la gente deve rompermi proprio le palle incredibile questa cosa non sto capendo quello che sto facendo vi giuro allora facciamoci un attimo i cildini che ansia regà c'ho veramente un'ansia incredibile non potete capire anche perché non so se vi ricordate ma se adesso io muoio spacco tutto spacco tutto regà io scappo non posso fare nient'altro cioè se mi trova regà sono morto quindi è meglio scappare in questi casi allora regà c'è un problema lì giù c'è gente ma io direi di andarmene non voglio rischiare ma poi la domanda più grande è perché c'ho due pompa c'ero talmente di ok c'è il treno prendiamolo treno ok vediamo se sul treno c'è tipo uno scar qualcosa ti prego dammi qualcosa di bello forse è dove stanno le persone che le spacco in due venite venite fuori se avete il coraggio sono pazzo ma sto andando fuori safe ma sto andando fuori safe no no regà ma perché stavo andando fuori safe ma sono pazzo la gallina la gallina oh ma mi sta ammazzare la gallina oh oh sto combattendo con una gallina andiamo co 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 te co 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 te dai dai non mi cagare in testa per favore eh per favore che la tutina di spiderman l'ho appena lavata non cagarmi in testa grazie perché c'è proprio il tuo culo in faccia vabbè vado da solo ragazzi non mi serve la gallina oh se muoio da safe vi giuro che me faccio pelato eh non è possibile sta cosa ragazzi siamo rimasti in 17 madonna non vincerò mai vi dico già che non vincerò mai ma se per sbaglio vinco faccio il bordello regà faccio il bordello ho preso un altro pompa ma sono stupido ok regà devo usare queste oh no mi stanno ammazzare i polli mi stanno ammazzare i polli ma vi rendete conto l'impulso regà e scappiamo perfetto siamo ancora salvi non so neanche io come mamma mia siamo rimasti in 17 adesso dobbiamo stare molto molto calmi molto cauti perché ho paura di morire sono sincero siamo rimasti in 15 questa cosa mi piace sono abbastanza no non so neanche cosa dire mi sto cagando sotto ok vediamo di lutare qua perché non è che ho tanti colpi sinceramente eh io voglio trovare lo scar vorrei trovare uno scar se possibile ragazzi mi raccomando voi che state guardando il video vi ricordo che tutte le sere alle 20 e 30 sono in live sono in live anche in questo momento e venite regà perché ogni volta in live ci divertiamo tantissimo mi sto cagando c'è una macchina c'è una macchina qua davanti c'è uno c'è uno con calma non mi sembra forte non mi sembra forte ok l'ho mangiato l'ho mangiato madonna ragazzi dai dimmi che riesco a fare sta vittoria me la merito dopo tutti gli sforzi che ho fatto dopo tutte le tasteri che ho rotto dopo tutti i monitor che ho rotto almeno una kill me la fate fare siamo rimasti 9 mamma mia siamo in 7 raga siamo in 7 nelle classificate non ci posso credere finalmente salirò un po' di rankhead salirò a platino non lo so quanto sa no in realtà non salirò mai a platino però va bene lo stesso facciamoci lo shield con calma prendiamoci le band che possono sempre servire e raga proviamo a pushare non lo so proviamo a pushare è l'unica cosa che posso fare io in questo momento porco se mi hai fatto paura bro mi hai fatto troppa paura pezzo di merito c'è un problema raga come esco da qua come esco da qua non mi ricordo qual è la strada potrebbe essere un problema oh ma che fa questo ma che fa oh raga fermi tua mamma tua mamma tua mamma tua mamma tua mamma tua mamma non posso morire così eh vi dico già che non posso morire così no ho paura no raga mi devo curare non l'avevo visto pezzo di merito cosa volevi fare eh dimmelo dimmi cosa volevi fare ah volevi uccidermi scusa no scusa non volevo mamma mia raga se sono forte tutti un like tutti un like ora sono troppo casato ho 4 kg tra l'altro secondo me io ho acquisito un sacco di punti se perdo può finire veramente molto male ok ragazzi avviciniamo io lo ci provo tua mamma tua mamma no 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 non posso perdere no 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 non posso perdere ho anche il medaglione per favore non facciamo figure di merda ho paura no devo ricaricare muori si si con calma con calma oh mio dio se sto oh mio dio se ho l'ansia oh mio dio se ho l'ansia se perdo ragazzi ce sto veramente male ve lo dico non posso perdere devo pure ruttare ok però siamo in safe siamo in safe dobbiamo un attimo calcolare delle cose o rimango qua o non lo so non lo so ho veramente tanta paura non sto scherzando comunque il loot ce l'abbiamo lo shield ce l'abbiamo stiamo messi abbastanza bene in realtà stiamo messi abbastanza bene oh mio dio oh mio dio che partita che partita mi stanno pushando no no dimmi che non è forte questo qua dimmi ti prego che non è forte grazie per i 5 euro simone simone spaccolata stera simone grazie simone per i 5 euro no simone simone mi è distratta con i 5 euro simone simone no simone no simone no simone no simone no simone no simone adesso per colpa di simone ragazzi lo faccio lo faccio e questa ragazzi è la mia tastiera ragazzi lo spacco perchè io non vinco mai le ranked su fortnite seee seee l'ho sbaccato l'ho sbaccato tutto vada raga lo devo dividere a metà per le donne mi giuro ragazzi se non vi iscrivete al canale se non vi iscrivete al canale ci siamo divertiti però no non vi iscrivete al canale